Sì, abbiamo trovato subito i spazi giusti, poi sai, quando c'è giocatori come Bomberdagnali fanno la differenza, per noi è tutto più semplice, anche girare palla dietro senza problemi, quindi proviamo ad avanti, siamo un po' rimaneggiati, quindi vediamo se ci raggiunge qualcuno nel pomeriggio. Quando tutti i ragazzi bravi a giocare a pallone è facile giocare, giocare bene tutto l'anno, non è che per forza bisogna conoscerci, noi abbiamo due o tre giocatori che giochiamo tutti insieme durante l'anno, Bomberdagnali, il portiere, i pezzi principali ci conosciamo, poi siamo qua per divertirci, giochiamo tranquilli, proviamo a fare cose magari che durante l'anno non proveremo a fare, rischiando un po' di più, però ci vogliamo divertire e vogliamo provare a vincere, soprattutto con l'Alitalia, riscattiamo subito i prestiti cercando di batterli subito. Allora, in bocca al luparello di Alitalia. Grazie, grazie Crepe, grazie.